ciao amici di planet ram benvenuti a un nuovo video oggi parliamo di nuovo di lettura ritmica allora come abbiamo fatto in un video precedente abbiamo già spiegato le notazioni della semi minima della croma quindi note da un quarto e note da un ottavo oggi introduciamo i sedicesimi quindi che si scrivono quindi come la croma però con l'aggiunta di un'altra coda quindi a due codine in alto o in basso all'interno di all'interno di un quarto noi quindi avremo quattro sedicesimi il riferimento vocale per contare i sedicesimi è 1 e and a quindi se io prendo il metronomo a 60 ok 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a quindi una volta che abbiamo capito la suddivisione dei sedicesimi possiamo prendere il nostro libro il batterista ostinato che ho scritto e pubblicato qualche tempo fa prendete il libro a pagina 65 e vediamo insieme la lettura 19 dove vengono mescolate semicrome, crome, semi minime, pause da un sedicesimo che sono simili a quelle da un ottavo ma con un puntino in più pause da un ottavo e pause da un quarto pagina 65 numero 1 numero 2 numero 3 numero 3 numero 4 numero 5 numero 6 numero 7 numero 7 numero 8 numero 7 numero 8 numero 8 numero 8 numero 7 numero 8 numero 8 numero 8 Nel libro chiaramente troverai anche altre letture, altri esercizi di tecnica, lettura, coordinazione, quindi se non ce le hai puoi procurartelo, lo troverai in tutte le librerie e sui store digitali. Ciao, alla prossima lezione. Grazie.